... Ed eccomi, allora, chiediamo subito come si chiama, prevento una cosa, questa è la numero uno, la numero uno può essere intesa in diversi, come dire, in diversi modi, la numero uno perché si presenta per FRIB, per prima quando hai superato una gara che non ricordo, cos'era la prima selezione? La prima selezione. La prima selezione, complimenti, come ti chiami? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.